Ben tornati a tutti. Oggi è sabato, 24 agosto 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo capricorno. Musoni a casa, sereni in viaggio. Sotto tiro della luna in quadratura. Oggi la vostra casa somiglia a una trappola per topi, già sapete che tornarci equivarrà a sopportare tensioni e litigi, ma con una famiglia guerra fondaia questo è il minimo. Non che sul lavoro siano tutti angioletti, tutt'altro, competitività e battute urticanti si spretano anche tra colleghi. Per questo non vedete l'ora che arrivi il momento di chiudere per andarvene di corsa, un cenno di saluto e via. La bella venere, da ieri abbracciata al sole in vergine, segno di terra amico del vostro, vi aspetta nella casetta di campagna, meglio ancora in collina o mezza montagna dove la notte si dorme bene e si sta freschi. Durante il giorno poi potrete assecondare le vostre passioni, la ricerca di funghi, di frutti selvatici o qualche lavoro nell'orto. Il contatto con il vostro elemento, la terra, vi dà pace, è lei la grande madre, resa verde da Demetra a cui amate rendere omaggio perché è da lei che dipende la vita. Una svolta decisiva in amore che può essere la costituzione di una nuova coppia o il consolidamento di una nata in precedenza. Un colpo di fulmine, un amore che sboccia improvviso e dirompente. Le persone che incontreranno i single saranno motivate, giuste, equilibrate e potrebbero essere realmente interessati a un rapporto di coppia. Un incontro nuovo si prospetta all'orizzonte. Scegliete meglio le vostre amicizie, ci sono troppi pettegolezzi. Siete più distratti del solito, badate al concreto e non alla forma. Meditate sempre di prendere una decisione. A volte rischiate di essere impulsivi. Potreste aver bisogno di tutta la vostra calma per risolvere oggi una situazione intricata e complessa, riuscirete comunque a fare in modo che il problema che vi affligge si possa risolvere. Non dovete necessariamente piegarvi sempre alla volontà del vostro partner, oggi ad esempio potreste aver bisogno dei vostri spazi e riconsiderare la vostra posizione in merito a numerose situazioni. Prendete la palla al balzo e trascorrete dei momenti in solutitudine che vi aiuteranno a ragionare. Ogni volta che credete di aver trovato la persona giusa c'è sempre qualcosa che va storto. Siete sicuri di non aver lasciato qualcosa in sospeso nel vostro passato? Qualcuno parla male di voi a vostra insaputta. Cercate di indagare ma non attaccatelo. Poi correte ai ripari. I vostri sentimenti potrebbero generare una serie di ansie non del tutto motivate. Provate ad affrontare singolarmente le situazioni e a risolverle una per volta. Non trascinare una situazione che è critica già da tempo. Dacci un taglio e cerca di prendere le decisioni giuste tempestivamente. Periodo ricco di eventi piacevoli, stai su, presto le novità si faranno presenti. Cerca però di frequentare solo persone allegre. Il transito molto favorevole di questo momento per il vostro segno è senz'altro quello di urano in toro, nome tutelare per eccellenza del capricorno, che innalza il livello della vostra energia attiva e della voglia di approfondire ogni cosa per mettervi in contatto con il mondo. Inoltre, il sole è altresì benefico per voi e la socievolezza che riuscite a tirar fuori in questo momento, è infatti superiore a quella che di solito vi anima in altre fasi della vostra vita. Questa ipotesi previsionale appare più azzeccata, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 18 di gennaio. L'unica vera amica oggi è venere timida e gentile in vergine, segno di terra buon amico del vostro. Difficile però che abbia la forza sufficiente per tenere a bada le complicazioni volute dalla luna retina sempre urticante e dispettosa in quadratura. Quanto agli altri astri oggi attivi in cielo, Giove e Marte vi fanno sgobbare. In azienda oltre l'ora di chiusura, attenti però a non trasformare la vacanza in un tour de force, altrimenti il piacere si annega in un mare tempestoso di iperattività senza capo né coda. Amore ed Eros. L'amore viaggia con voi, tirando l'imbancabile trolley rosa. Non contiene indumenti o attrezzatura sportiva, ma solo tenerezze, belle speranze e magari anche qualche dolce illusione che fa parte del pacchetto regalo. Tra partner e famiglia la situazione appare piuttosto tesa, ma non appena uscite dal terreno conosciuto e ormai praticato da anni per mettere il naso in qualche situazione esterna leggera e fragile come un sogno, vi sentite rinascere, diversi, ringiovaniti. Occhio però a mantenere i due file nettamente separati, le vostre fantasie amorose da un lato, la realtà quotidiana con i suoi alti e bassi dall'altro. Il quadro planetario nel complicato mondo dei sentimenti vi promette un'altra giornata di appagamento emotivo complessivo. Potreste trovarvi a dover fare una scelta, però quest'oggi. La luna dissonante in ariete, parla della eventualità di trovarvi a un vivio sentimentale, non sapendo cosa decidere. Prendetevi ancora un altro po' di tempo per sciogliere gli ultimi dubbi. La vostra razionalità viverrà in soccorso. Lavoro e denaro. Felici i vacanzieri che continuano a fare il pieno di natura, arte, bellezza, insomma armonia. Non così facile e piana la vita per chi è già rientrato alla base con mille incombenze tutte prioritarie da svolgere a casa e, se il ritorno è molto recente, ancora bagagli da disfare e lavatrici da avviare. Teso e molto impegnativo anche il ritorno al lavoro e ora, con la prima settimana di attività professionale sulle spalle, vi sentite già spappolati, come se le vacanze, concluse da pochi giorni, fossero già un lontanissimo ricordo. Forte la voglia di ripartire e se la casetta di campagna della nonna o di qualche amico si apre per accogliervi perché no? All'uscita dall'azienda una rinfrescata, due effetti personali in una borsa e via di nuovo verso la libertà. Urano, Saturno e Nettuno, senza scordare un luminoso sole, vi promettono di seguire i vostri progetti di lavoro con slancio, analisi puntuale e un pizzico di estro. Gli effetti che vi ritornano saranno di tutto rispetto, in particolar modo se siete nati nella seconda e terza decade. Benessere. Belli lo siete senz'altro e anche visibilmente più giovani rispetto all'età anagrafica, sani oggi un po' meno con qualcosa sullo stomaco sia in senso reale, sia metaforico, una rampogna immeritata dal capo, una serie di complicazioni professionali finite tutte sulla vostra scrivania. Quanto vi farebbe bene rilassarvi, e allora cominciate subito da stasera. Per lei, bello dopo le vacanze ritrovare il grippo di amiche, ma una serata in casa per quanto simpatica, stanca. Meglio un weekend al mare o in montagna per festeggiare qualcuna, o forse tutte. Per lui, trovata geniale rivedere quella bella ragazza conosciuta in vacanza che insiste con l'inviarvi foto e messaggi carini, evidente che avete fatto colpo e poiché nemmeno lei vi è indifferente. Tanto vale lanciare un invito. Se son rose fioriranno e quelle d'autunno sono le più profumate. Colore delle emozioni, rosa alba. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno, sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.